buongiorno a tutti ragazzi in questo video parleremo del 44 episodio di zombie tsunami stavolta utilizzeremo il maxi tsunami lo tsunami massimo vi auguro una buona visione vediamo che succede eccoci qui salta per due secondi mi sembra complicato forse devo salire sopra una macchina infatti aspettate ok possiamo andare non mi bastano gli zombie per far cadere un aereo l'egitto hanno invaso l'egitto ogni zombie non c'è nessuno aereo cari amati perfetto mecca no che imbranato l'ho evitato perfetto no 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 Grazie a tutti. 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 Aspettate. Grazie a tutti. D'accordo. Il 40%. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Però è colpa. La mia prima. Oh. Finalmente l'aereo. 700. siamo arrivati. 1. 1. mi lasse attenzion ovo Grazie a tutti. Grazie a tutti. 11.800. Dei Malaya. 11.800. Dragon. 9.800. Olfato. Perfetto. Due zombie si sono salvati. Ecco fatto. Soltanto uno. 1.500. 3.000. Ok. Pronto. Ci vediamo lì che utilizziamo lo tsunami. Ok. Lo tsunami. E al massimo. Già ho fatto 40 zombie. Uffo. Ok. 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 langue. Ok. beh ragazzi speriamo che questo video di zombie tsunami il 44esimo episodio sblocchiamo un nuovo zombie uccello e utilizziamo il maxi tsunami vi sia piaciuto scatate il canale mettete un bel like seguite in instagram e noi ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti